buongiorno a tutti allora partiamo subito con le sponsorizzazioni perché sono poi mi dimentico e il video diventa troppo lungo quindi sponsorizziamo il pronosticatore folle per quanto riguarda pronostici di vari campionati eccetera con 3000 opzioni sponsorizzazione per l'interista dentro marchino l'interista dentro per quanto riguarda il campionato di serie a anche lui fa però sono pronostici mirati e secchi e ci azzecca spesso e poi mi pronostico mi sponsorizzo automaticamente io continuo a dire mi pronostico mi sponsorizzo lunedì sera all'appuntamento col gigione così parliamo del coronavirus visto che qualcuno mi ha scritto parli di calcio di spar parliamo del coronavirus ne parliamo lunedì sera tutti assieme sei ore di diretta così ma ripeto fare un video sul cui io mi occupo di call news notizie frebbe questa è una notizia che a me resterà spero di no spero tra tre mesi che ce la togliamo dalle balle diventa una call news ma per ora una fresh news detto questo andiamo al campionato inglese schedina della premier league si parte alle 13 30 con liverpool borne moff 1 arsenal west ham 1 crystal palace warford partita da tripla 1 2 sheffield wednesday anzi sheffield io non mi viene in mente il wednesday ma comunque sheffield norwich 1 southampton newcastle 1 wolverenton brenton 1 barley tottenham partita da tripla 1 2 chelsea everton 1 manchester united manchester city il derby di manchester mi ha rischio il 2 mi ha rischio il 2 poi vedremo cosa succederà schedina alternativa liverpool borne moff 1 e buonanotte over 1 e mezzo arsenal west ham over 2 e mezzo crystal palace warford over 1 e mezzo sheffield norwich over 1 e mezzo southampton newcastle over 2 e mezzo wolverenton brighton over 1 e mezzo barley tottenham mi puzza di gol non lo so mi è venuto gol non è però ci può stare chelsea everton gol e è un derby il gol è l'obbligo è il gol lo esigo in manchester united manchester city il gol lo esigo detto questo mi stavo dimenticando il monday night quindi lei cessa la stone villa per quanto riguarda la schedina 1 e lei cessa la stone villa partita di lunedì sera e attenzione over 1 e mezzo over 2 e mezzo quindi nella schedina siccome la partita di lunedì me ne stavo dimenticando perché lì è imboscata in basso comunque lunedì sera c'è anche il monday night c'è un bel esce a la stone villa un 1 più over 2 e mezzo potrebbe essere proprio l'apoteosi massima però è a vostro rischio e perico lo dovrebbe pagare anche abbastanza bene però vedete voi e ve la butto lì è perché non l'ho inserita nella schedina proprio perché è una partita di lunedì veniamo alle bollette sheffield norwich 1 wolverenton brighton 1 arsenal west ham 1 chelsea everton 1 con 5 euro 37 euro e 90 bollettina alternativa sheffield norwich 1 wolverenton brighton 1 arsenal west ham 1 x chelsea everton 1 x con 5 euro 18 euro e 12 poi per i più coraggiosi che magari arsenal west ham mi dicono gigi arsenal west ham 1 fisso dai facciamo i coraggiosi eccetera con tre fisse e una sola doppia per chelsea everton perché l'everton di accelotti attenzione perché sta facendo molto bene il carletto con l'everton quindi a c'è a londra col chelsea potrebbe fargli lo scherzettino quindi stiamo su arsenal west ham 1 no wolverenton brighton 1 sheffield norwich 1 e mettiamo la doppia chelsea everton 1 x in questo caso con 5 euro 24 euro 85 ripeto per i più coraggiosi poi vedete voi scegliete voi tanto sono partite lì lì una con l'altra è tutte tre quindi la doppia mettete la dove volete io su chelsea everton la lascerei la doppia poi nelle altre tre è a vostra discrezione terza bollettina doppia più over sheffield norwich 1 is più over wolverenton breton 1 is più over arsenal west ham 1 is più over e chelsea everton 1 is più over con 5 euro 22 euro e 14 vale lo stesso discorso che facevo per le doppie per la bollettina delle doppie anche qui se qualcuno vuole togliere qualche doppia perché si sente sicuro che esce la fissa più l'over è a sua discrezione la cifra poi naturalmente si evolve verso l'alto quarta bollettina gol casa gol ospite che a me fa sempre libidine sheffield norwich gol ospite wolverenton brighton gol ospite arsenal west ham gol ospite chelsea everton gol ospite con 5 euro 26 euro e 38 quinta bollettina e qua arrivano non neanche tanto le dolenti note però diciamo che è quello che è sheffield norwich gol piovero wolverenton brighton gol piover arsenal west ham gol piovere e chelsea everton gol piove allora sheffield norwich il gol piover non è favorito però la differenza è inferiore allo 0,5 dal no gol piovere e il gol piover quindi per intenderci se il gol piovere è dato a 3 il gol no gol piovere è dato a 260 wolverenton brighton vale lo stesso discorso di sheffield norwich uguale identico centesimino più centesimino meno ecco arsenal west ham il gol piovere è favorito ma non troppo c'è il sieverton il gol piovere è favorito ma non troppo c'è arsenal west ham un pochettino di più chelsea everton un po lì lì e infatti le cose cambiano quando vado a fare l'altra bollettina ma intanto con i gol piover con 5 euro 124 euro e 31 centesimi che non è male veniamo alla sesta bollettina sheffield norwich uno più gol wolverenton brighton uno più gol arsenal west ham uno più gol e chelsea everton uno più gol con 2 euro 288 euro 89 con 5 euro 722 virgola 23 ma siccome allora chelsea everton ho visto che la differenza è talmente minima che non sto a dirvi fate il no gol perché se non erro è 0 10 a favore del no gol più under quindi non sto lì a a farvi col arsenal west ham l'uno più gol è favorito wolverenton brighton il favorito è l'uno più no gol quindi vi faccio wolverenton brighton uno più no gol e sheffield norwich uno più no gol perché anche qui è favorito il no gol con l'uno quindi con 2 1 più gol e 2 1 più no gol con 2 euro se ne vincono 122,56 con 5 euro 306 virgola 40 detto questo vi saluto vi ringrazio adesso deciderò se fare il campionato italiano visto che l'ho fatto la settimana scorsa non hanno giocato adesso magari rifarò le bollettine qualora ha giocato delle partite che avevo scelto e se soprattutto se sono fattibili se no farò bundesliga e campionato francese ciao